Quali sono i paesi in cui è maggiore la sicurezza informatica? Secondo l'International Telecommunication Union, l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, il posto con il più alto grado di cybersicurezza è Singapore, secondo gli Stati Uniti. L'Italia è in trentunesima posizione nella classifica mondiale che esamina 165 paesi. Tra gli europei più virtuosi sono Estonia e Francia, che si posizionano rispettivamente al quinto e all'ottavo posto. La Germania è ventiquattresima, superata dall'India. Tendenzialmente bene i paesi baltici, male i paesi dell'Est, con la Slovenia che arriva ultima tra i membri dell'Unione e finisce in ottantaquattresima posizione.